Avevano escogitato un sistema ben consolidato, attraverso il quale alcuni cittadini rumeni riuscivano a rubare mezzi da cantiere e macchine agricole in diverse località del Piemonte e della Lombardia, per poi piazzarle a un ricettatore egiziano gravitante nell'Interland milanese. Le indagini della squadra di polizia giudiziaria del compartimento Polizia Stradale di Torino sono partite dal furto di tre mezzi da cantiere, un autocarro e due scavatori, dai locali di un'azienda della provincia di Asti per un valore commerciale complessivo di oltre 200.000 euro, commesso in una notte dello scorso gennaio. In quella circostanza infatti i veicoli, dopo essere stati lasciati in sosta in località Ponte Curone in provincia di Alessandria, probabilmente in attesa di essere piazzati, sono stati sequestrati dai militari della stazione Carabinieri di Tortona. Accertamenti tecnici hanno consentito di ricostruire il percorso autostradale dei veicoli ed individuare inoltre un'autovettura che fungeva da staffetta durante il tragitto. Subito dopo il furto, infatti, i veicoli rubati, preceduti sempre dall'autovettura staffetta, si erano immessi sull'autostrada A21, Torino-Piacenza, dal casello di Asti Ovest, per poi uscire al casello di Castelnuovo-Scrivia e essere infine abbandonati in località Ponte Curone. Il veicolo staffetta, con a bordo tre persone di origine rumena, vestite con felpe e cappucci, era stata sottoposta a controllo la notte prima del furto, sull'autostrada A21, da una pattuglia della sottosezione polizia stradale di Alessandria Ovest. Questo controllo si è poi rivelato fondamentale, in quanto le dichiarazioni informali rese nell'occasione dagli occupanti e il loro abbigliamento hanno consentito di collegarli al furto nella notte successiva. L'attività investigativa ha consentito, sostanzialmente, di accertare che tre, la notte del controllo avevano già tentato di spostare i veicoli e, non essendo riusciti, erano tornati sul posto la notte dopo, portando a termine quanto iniziato. Raccolti quindi gli elementi di prova, tali da denunciare complessivamente sei persone, alle quali sono stati attribuiti il tentato furto, primo episodio, e il furto di tre veicoli, secondo episodio, nonché la recettazione di un autocarro, una macchina operatrice e del materiale da cantiere, il tutto oggetto di un furto perpetrato sempre nel mese di gennaio di quest'anno in provincia di Bergamo. Grazie a tutti!